Chiediamoci allora che cosa possiamo fare per guarire? E' possibile gestire da noi stessi il nostro processo di guarigione o dobbiamo costantemente affidarci a qualcuno, qualche professionista? E' possibile mantenere una salute oppure dobbiamo necessariamente fare un percorso profondo dentro noi stessi? Ci sono tantissime piccole cose che noi possiamo fare, tante semplici cose delle quali assolutamente non ci rendiamo conto perché la nostra cultura nella quale siamo immersi assolutamente non le considera. Io lo chiamo questo il versante scordato. Per esempio, la prima cosa che noi facciamo di fronte alla malattia è quella di andare via. Se voi ci pensate, se ci riflettiamo un attimo, è automatico di fronte a qualsiasi disturbo, sia esso un mal di testa, sia esso un mal di stomaco, l'ansia piuttosto che la febbre, la febbre, trovare una spiegazione. Diamo così per scontato che guarire voglia dire trovare una spiegazione, trovare un perché, che non lo mettiamo nemmeno in discussione. Solo che il nostro trovare una spiegazione in realtà è un andare via da quello che stiamo vivendo, perché il sintomo che si manifesta già di per sé ci sta spiegando, ci sta dicendo che cosa sta succedendo. Solo che noi, invece di restare di fronte al sintomo, invece di ascoltarlo, ci chiediamo perché, andiamo dal medico, oppure pensiamoci bene, la prima cosa che noi facciamo quando abbiamo un sintomo è quello di dire vabbè, passerà e tendiamo a trascurarlo se la sua entità è minima. Dopodiché, se persiste, allora incominciamo a chiederci cosa possiamo fare per farlo andare via, possiamo chiederci da dove viene, cerchiamo di andare a individuare un colpevole, un responsabile. Sarà stato il tempo, sarà stato quello che ho mangiato, piuttosto che è il lavoro che faccio che non mi soddisfa, piuttosto che è il mondo che non va bene, cerchiamo di trovare al di fuori un colpevole, un responsabile. Se l'operazione non riesce, allora andiamo dal medico, il quale anche a sua volta cerca un colpevole, avrai la colite, piuttosto che hai la periartrite scapulomerale, piuttosto che hai l'asma e allora noi sappiamo, ah non sono io il responsabile dell'asma, il responsabile del mio malessere, ma questa asma in realtà non vuol dire altro che ho la difficoltà a respirare, per cui facciamo questa operazione di spostare la malattia fuori di noi cercando di combatterla. Quindi facciamo esattamente quello che la società ci insegna, combattere l'altro, cercare di vincerlo, cercare di superare, quando invece se noi ci fermiamo un attimo a riflettere, l'asma piuttosto che il mal di testa, piuttosto che il tumore è qualcosa che nasce dentro di noi, quindi è qualcosa che ci appartiene, è qualcosa che ci sta parlando. Pertanto dovrebbe essere sensato che invece di trovare un colpevole, invece di combatterlo ci fermiamo e ascoltiamo, invece di fare la guerra facciamo la pace o un tempo si diceva facciamo l'amore, quindi fare l'amore con la propria asma o fare l'amore con il proprio mal di testa è qualcosa che ci sembra così lontano dalla nostra mentalità appunto da non considerarlo, invece restare amore e accoglierlo come se fosse una persona cara, come se fosse realmente un amico che viene a dirci qualche cosa e qualche cosa che noi possiamo fare tranquillamente senza bisogno di maestri, senza bisogno di lavoro profondo. Restare, ascoltare, chiedere, accogliere amorevolmente, accettare amorevolmente quello che è il nostro disturbo senza trovare pretesti, sarebbe già moltissimo, questo è uno dei primi passi che noi possiamo fare, sintetizzando potremmo dire restare invece di andare via, accettare e assumersi la responsabilità anziché cercare dei pretesti o dei responsabili, dei colpevoli fuori di noi. Questo è uno dei primi punti che è un punto generale ma che ha una ricaduta nel nostro comportamento quotidiano di ogni giorno.